...e viene premiata quando il quarto uomo ha già mostrato il cartello del recupero. Rambaudi Pescaprotti lasciato troppo solo, il resto è solo festa bianco celeste. Sono entrato a un quarto uomo dalla fine, aver pareggiato il 92esimo, sarà un gioiello che mi porterò fino a quando giocherò e soprattutto quando smetterò. L'idol mastica Amaro, Zoff tira un sottotitolo.